Pesaro, capitale della cultura, questa volta si declina in capitale del disegno. Titolo della mostra che dal 21 settembre al 17 novembre si diramerà fra le stanze dei musei civici facendo dialogare le opere presenti a Palazzo Mosca con un percorso espositivo costruito su 42 opere grafiche antiche appartenenti alla collezione Viti Antaldi e costudite dalla Biblioteca Oliveriana. A cominciare dal prezioso foglio autografo giovanile di Raffaello Sanzio, l'ultimo sopravvissuto di una collezione che torna in mostra dopo vent'anni svelando la potenza espressiva di quello che poi sarà il talento immortale del maestro. Il disegno è una preparazione della figura di Cristo per l'opera Resurrezione, oggi conservata al Museo di San Paolo del Brasile. È l'ultimo sopravvissuto, importantissimo perché è un disegno giovanile, molto giovanile e dunque è un disegno che ci permette di capire quanto Raffaello sia stato bravo nel disegno fin da subito. È l'ultimo di una collezione che ne aveva davvero un numero importante al suo interno, disegni che sono andati acquisiti da altri collezionisti nel corso del tempo che oggi sono il vanto delle più grandi collezioni del mondo. Questa mostra credo che renda giustizia anche a questo aspetto della conoscenza di Raffaello. Raffaello al centro, però tanti altri artisti importanti come naturalmente Federico Barocci, come alcuni dei barocceschi più significativi del gruppo che si muove intorno al maestro, Simone Cantarini e qui siamo nell'ultima sala, quella dedicata a Giovanni Andrea Lazzarini che ha voluto sottolineare questa importanza e il ruolo che Raffaello ha avuto nella storia dell'arte. Di tesori ne abbiamo veramente tanti, questi sono 42 disegni che sono in mostra e fanno parte di una collezione che ne comprende più di 800. È un obiettivo raggiunto perché questa attenzione, anche questo affetto che la città di Pesero ha sempre dimostrato nei confronti anche del nostro foglio di Raffaello e viene in questi giorni finalmente secondata con questa bella iniziativa che è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Pesero, la Fondazione Pescheria e chiaramente l'Entolivieri che custodisce e conserva la collezione Antaldi. Credo che sia un bel risultato, ne siamo contenti, siamo felici soprattutto che anche in un momento così un po' difficile se vogliamo, ma un momento che ci porterà un futuro radioso dell'Entolivieri in restauro, insomma la nostra sede in restauro queste sono occasioni nelle quali comunque riusciamo a dare spazio e visibilità al nostro patrimonio che comunque rimane un patrimonio a disposizione della città e di tutti coloro che sono interessati, quindi questa iniziativa ci rende particolarmente felici e contenti. I disegni sono oggetti fragili per cui in molti casi sono andati perduti però i disegni raccontano quella parte più intima del fare artistico quella che comincia da un primo pensiero dell'artista che diventa un segno proprio sulla carta e che pian piano crescendo dà vita all'opera finita.